Un paio di giorni fa, poche settimane dopo l'uscita del suo 37esimo album in studio Peace Trail, il 71enne Neil Young, a una precisa domanda del giornalista della rivista inglese Mojo, ha dichiarato di essere disponibile a un'eventuale ulteriore riunio con i suoi vecchi amici Crosby, Stills & Nash. La notizia di per sé non sarebbe clamorosa ripensando proprio ai litigi e alle riapiacificazioni numerosissime che hanno contraddistinto la carriera di quelli che qualcuno chiamò i Beatles americani o i nuovi Beatles, però alla luce di ciò che è successo quest'anno, il fatto di litigi, sembrava davvero che il sodalizio dovesse essere concluso per sempre. Faccio un riepilogo dei fatti perché ne avevamo parlato in altre rubriche nostre. Il motivo del contenere sono state le donne, certo che per, diciamo, ultra settantenni fa un po' sorridere, fa sorridere pensare che la liaison amorosa tra Neil Young e l'attrice Dario Anna, definita da David Crosby un serpente velenoso, abbia in qualche modo fatto scattare la voglia di vendetta e così Neil Young ha detto ok, tu dici questo, non suoneremo mai più insieme. Purtroppo Crosby ha il difetto di commentare le vicende amorose dei suoi amici pubblicamente, ha fatto la stessa cosa con Graham Nash che ha lasciato anche lui come Neil Young dopo 30 o 35 anni di matrimonio la sua moglie storica per accasarsi con una giovane fotografa new yorkese che si chiama Amy Grantham. Anche lì polemiche e soprattutto il giuramento di non suoneremo mai più insieme. Bene, Neil Young questa volta però lascia aprire, lascia alla porta aperta questa possibilità. I litigi tra di loro, anche il fatto di donne, risalgono davvero al 1969 o forse prima. In quegli anni, se vi ricordate, la cantautrice canadese Joni Mitchell, che già aveva avuto delle piccole storie con il suo connazionale Neil Young, veniva prodotta da David Crosby con cui si diceva avesse una storia d'amore, che però culminò con l'incontro con Graham Nash e una vera storia d'amore legata al Laurel Canyon a quei giorni. Poi probabilmente anche Stephen Stills non ha voluto essere da meno dei suoi compagni. Certo che Stills e Nash più di una volta hanno avuto problemi nello spartirsi le fidanzate. Accadde con Rita Coolidge, che era la fidanzata di Stephen Stills, rubatagli proprio sotto gli occhi da un velocissimo e rapido Graham Nash. Boh, la storia adesso, chi lo sa come andrà a finire, sa di fatto che i ragazzi sembrano proprio non demordere nonostante l'età e le visite dall'urologo. Noi quello che ci auguriamo è di vederli ancora una volta sul palcoscenico, tutti e quattro insieme, per vedere davvero dal vivo quella che è stata una delle grandi leggende della musica rock.